Hello guys, ciao ragazzi, buona giornata e ben ritrovati qui sul mio canale di YouTube. Bene, come avevo promesso, il metodo Gennari è arrivato alla fine, è stato tutto registrato sulla pendrive da 16 giga, come tutti gli altri miei corsi, e questo è appunto il mio metodo Gennari, che è un metodo di preparazione pianistica complementare al metodo Bayer. Cosa vuol dire? Vuol dire che se state studiando il Bayer, nel contempo insieme potete fare anche questi esercizi. Perché? Perché il metodo che ho fatto, questo mio metodo, è atto a sviluppare la mano sinistra e la sincronizzazione fra le due mani. Problema che tanti allievi hanno mentre studiano il Bayer, che è quello appunto di dover fare un esercizio dove la mano destra e la mano sinistra fanno cose completamente diverse, ed è giustamente che sia così, perché il pianoforte da che mondo è mondo, ogni mano fa una cosa diversa. Ecco, questo mio metodo è stato, l'ho realizzato, l'ho scritto proprio per aiutare i miei allievi a superare questi ostacoli. Il metodo è composto da 90 esercizi divisi in tre capitoli, quindi il primo capitolo sono esercizi semplici, il secondo capitolo sono esercizi un po' più impegnativi, mentre il terzo capitolo sono effettivamente esercizi molto impegnativi e molto difficili. Però, piano piano, col tempo, si riescono a fare. Il tutto, come ho fatto con gli altri corsi, è all'interno di una pendrive da 16 giga e sono 77 video lezioni che contengono tutti i 90 esercizi. 77 perché i primi esercizi alquanto semplici sono riuniti magari in una sola lezione, ecco perché. Bene, vi faccio vedere alcuni esempi di questi esercizi. uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. due, tre, quattro. due, tre, quattro. 1 2 3 1 7 8 Ecco qua, avete visto quindi questi tre esempi di come si svolgono questi esercizi. Allora, sotto nella descrizione e insieme a quello che è il link dove potete trovare tutti i miei corsi, troverete a questo punto anche questo metodo. Sia gli esercizi in video registrazione, sia anche il metodo vero e proprio in formato cartaceo. Per quelli che non vogliono il cartaceo c'è anche la possibilità di averlo in forma digitale, in pdf. Però vi consiglio il libro perché è molto bello, è fatto molto bene e quindi è anche bello avere un metodo da leggere e da appoggiare al pianoforte mentre si studia. Bene ragazzi, dai, detto questo, adesso ci organizzeremo per fare nuovi corsi perché non ci si ferma mai. E intanto vi consiglio di prendere questo mio corso che vi aiuterà veramente, veramente tanto nella sviluppo della mano sinistra e nella sincronizzazione delle due mani. E detto questo, io vi saluto col mio solito e consueto, bye bye!